La teoria della cospirazione presuppone un sistema di controllo globale, un piano ideato da ristretti gruppi d'elite per incidere sull'aspetto emotivo delle masse e portare a compimento un nuovo ordine mondiale. E portare a compimento un nuovo ordine mondiale. Tutti i fatti in città grideranno viva sua maestà. Esistono artificiali costruzioni che ancora non si capiscono, come Giza o le piramidi di Ciccenizza, hanno in comune una storia che la storia comune stigmatizza. E se ne parli sei radiato dal rango, sei messo al bando e la vedrai solo in foto la sabbia, ora il fondo è vuoto e te la sogni Karnak. Tutto è fra la baba dei lupi, con i stori tipuchi, mentre Tesla conficcava la sua testa negli studi, e il signore Dina con la pala ionizzava e spaccava le nubi. Esistono strane cose che accadono, guarda basta che ti fermi un attimo, emozioni e sensazioni che non hanno un nome ma hanno un nome, non esiste per le altre persone. E possiamo iniziarlo un cammino, se quella fede la gettiamo nel buco del lavandino, spiriti levano un canto dove la foresta assente, balliamo nudi dentro al campo della mente. E di ritorno dal Kromlech, c'è un mondo dove il giorno è distrutto la notte, non esiste un modo te lo direi, è già nella tua testa il luogo dove gli uomini mutano in dèi. E di ritorno dal Kromlech, c'è un mondo dove il giorno è distrutto la notte, ci fosse un modo te lo direi, è già nella tua testa il luogo dove gli uomini mutano in dèi. Ed è apprezzabile lo sforzo umano, palpabile di notte, mentre viaggia privo di una luce in vano. Dall'alto del sapere ogni speranza è temolita, negli occhi degli dei l'unica via di uscita. E poi ritorno al buio conseguente, tornarono paure primordiali, le stesse da sempre. E ricordandoci chi siamo andremo a fondo, rifioriranno i frati bucati dal piombo. E sarà di nuovo il giorno a condannarci, saranno i veri cordi pronti a disastrarci. Ma il limite è più alto, più alto del contatto, fisicamente è un concetto più astratto. Immaginalo ora mentre il cielo ci sorvola, rievocando la mitologia di allora. E allora capiremo che c'è un Dio oltre a terreno in ogni battito corale che risuoneremo. E risuoneremo, e risuoneremo, e risuoneremo. E di ritorno dal Cromlec, c'è un mondo dove il giorno è distrutto la notte. Non esiste un modo, te lo direi. E già nella tua testa è il luogo dove gli uomini mutano in te. E di ritorno dal Cromlec, c'è un mondo dove il giorno è distrutto la notte. E se ci fosse un modo, te lo direi. E già nella tua testa è il luogo dove gli uomini mutano in te. Si chiede dunque un nuovo sforzo di coesione nazionale, e un concreto impegno per garantire la pace anche al di fuori dei confini della stessa Europa, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale.